salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi ho portato il mavic air 2 in una location secondo me fantastica la location è una chiesetta si chiama la chiesetta di san martino è una chiesetta piccolissima si trova a 500 metri d'altezza ed ha sul lago di como un panorama incredibile perché è proprio diciamo a strapiombo sul lago di como quindi un panorama incredibile che viene dato appunto da questo lago che ovviamente è vicino a casa mia ed è un lago bellissimo e dalla chiesetta decolleremo con mavic air 2 ho preferito portare lui perché comunque siamo in una zona molto ventosa quindi il vento potrebbe mandare in crisi altri droni ma sicuramente non il mavic air 2 e dal punto di vista cinematografico poi sapete che è un drone pazzesco quindi ho optato quindi adesso non perdiamo altro tempo camminata verso la chiesa di san martino e poi da lì decolleremo con air 2 quindi camminata e poi decolliamo ragazzi la chiesa di san martino è quella la in alto che si vede il campanile ragazzi c'è tanto da camminare ragazzi guardatela là ci stiamo sempre più avvicinando ragazzi la chiesa di san lago ragazzi la chiesa di san la chiesa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti